Ciao amici di MyFootballJersey, oggi vedremo insieme la prima maglia dell'Everton per la stagione appena iniziata, la 22-23, in edizione FAN. La divisa casalinga dell'Everton 2022-23 è stata lanciata introducendo un design su misura in blu e bianco. La maglia Homme Hummel Everton 22-23 ha un design pulito e moderno in bianco e blu, molto simile a quello dell'Eister per il quale trovate la recensione sul canale. Ciò che è unico è il motivo geometrico, è ispirato alla torre del principe Rupert che è il fulcro dello stemma dell'Everton. La torre è anche presente nella sigla dietro al collo. In colletto a contrasto i pannelli sotto le ascelle si aggiungono al look elegante della maglia e lo stemma della squadra appare sul retro del collo. Veramente niente male, nella mia classifica questa prende 3 stelle. È molto simile alla maglia dell'Eister che abbiamo visto. Questa secondo me è più bella, con questo motivo geometrico è veramente molto azzeccato, molto carino. È un colore che mi piace, questo contrasto bianco-azzurro-blu è molto bello e peraltro al costo che vedete qui sopra è veramente veramente un prezzo imbattibile. In descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia e un coupon da 3 dollari che potete utilizzare sul sito per comprare quello che volete. La spedizione è stata molto veloce, ha impiegato in tutto 21 giorni dall'ordine alla consegna e devo dire che la quantità, la qualità scusate, la qualità è veramente buona. Ora vi lascio la parte in cui vedete la vestibilità e le misure, quindi continuate a guardare. Prima di farlo però vi prego di mettere un like e di iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione FAN.